Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Il mondo televisivo e del talk show ha già imparato a conoscerlo, ma la nostra Roberta lo ha sentito dopo la pubblicazione di questa lista. Vediamo. Questo è lei, è nella lista delle persone accusate di fare la propaganda per la Russia. Come si è sentito quando ha letto questo articolo? Ho provato sgomento, non riuscivo a credere che la nostra intelligence si fosse prestata a un'operazione del genere, perché è giusto fare le indagini su chiunque si pensi che possa rappresentare una minaccia per lo Stato, però poi le risultanze di queste indagini non possono essere date in pasto alla stampa per minare l'agibilità politica di qualcuno. Lei è stato in Donbass, alcuni dicono che lei abbia combattuto, che sia il comandante Nemo, ha mantenuto dei rapporti? Sì, considero necessario conservare dei rapporti con il popolo che lotta. È innegabile che ci sia una rete che la unisce alla Russia? La politica è fatta di reti, quindi sarebbe assurdo pensare che non ce ne siano. Lei da che parte è in questa guerra? Io sto dal lato degli antifascisti, quindi del popolo del Donbass e degli altri popoli di Ucraina che resistono all'offensive del governo di Kiev. Questo significa stare dalla parte di Putin? No, questo vuol dire stare dalla parte degli antifascisti. È Putin che si è schierato con gli antifascisti. Significa stare dalla parte della Russia? La Russia si è messa dal lato giusto della storia, cosa che l'Occidente non ha fatto. Cosa rimprovera questo governo? Di aver sostenuto e foraggiato il ritorno del nazismo in Europa. Lei si sente una minaccia per lo Stato? Per lo Stato spero proprio di no, vorrei essere là per il governo.